29esima Sagra della Trota a Valbrona, cura della locale associazione pescatori, appuntamento per il prossimo fine settimana nell'area ricreativa comunale. Per parlarne con noi il rappresentante dei pescatori di Valbrona, Bruno Vicini. E allora, una tre giorni davvero intensa anche con qualche appuntamento nuovo. Sì, come tutti gli anni, anche quest'anno è arrivato il momento di fare la Sagra della Trota e la 29esima Sagra della Trota, quindi cercheremo di fare il più possibile per accontentare tutta la popolazione e non solo la popolazione di Valbrona ma anche tutta la gente che arriva da via. Numerosi gli appuntamenti abbiamo detto, ci saranno anche momenti particolari come la prova gratuita di lancio alla Trota per i ragazzi, poi la cena naturalmente per la tre giorni, venerdì, sabato e domenica dal 26 al 28 luglio e poi le serate musicali già a partire da venerdì con il concerto di Soluto Umane e questa è davvero una novità. Sì, è una novità perché è il primo anno che abbiamo deciso di fare qualcosa di nuovo anziché sempre il ballo riscio, almeno il venerdì, di fare questo concerto con il Soluto Umane, sperando che il tempo ce la faccia buona, ecco, così è un po' una novità per la società dei pescatori di Valbrona. E questa non è soltanto la prima delle serate musicali perché poi sabato e domenica ci sarà il ballo sotto le stelle, addirittura domenica l'esibizione della scuola di ballo. Sì, praticamente anche questa è una cosa nuova, che praticamente faremo questa novità lì della scuola di ballo con delle persone che balleranno, insomma. Ecco, vogliamo magari lanciare un appello ai ragazzi per questa prova gratuita di lancio alla trota? Sì, questa è una cosa che come società e come io personalmente ci tengo, ci tengo anche alle garette che noi durante l'anno facciamo per i ragazzi, perché sebbene non abbiamo ancora allargato il laghetto di Visino, sperando che prossimamente con l'amministrazione comunale riusciremo a fare qualcosa in più. Però queste garette e questa prova di lancio con questi ragazzi che faranno, è una cosa che secondo noi come società è una cosa importante, sperando che i genitori li accompagnino a questo sport, che è un sport secondo me che è bellissimo fuori da tutte le altre cose, quindi cercate di portare là i bambini, almeno fare sta prova di lancio e così almeno vedremo di accontentarli tutti. Chissà che magari qualcuno non si appassioni davvero. Tante altre cose, la mostra espositiva sull'attività itica, che cosa esponete in particolare? E delle fotografie sulla pesca, degli attrezzi sulla pesca, reti, sibietti, tutte le cose lì, tanto per esporre qualcosa sulla pesca. Quello che è appunto il centro dell'attenzione della vostra attività. E allora, ventinovesima sagra della trota, l'area ricreativa comunale di Valbrona, venerdì 26, sabato 27, domenica 28 luglio e buon lavoro ai pescatori di Valbrona. Va bene, grazie mille. Cercheremo di fare il tutto per accontentare tutta la gente che ci verrà a trovare. Mi raccomando, veniteci a trovare. Un ringraziamento particolare a Televalassina perché si ricorda sempre anche dei pescatori di Valbrona. Grazie anche a lei e grazie di tutto. Finalmente ci siamo tutti. Certo, potevamo forse mancare. Allora questa grigliata la facciamo o no? Ragazzi, ci penso io, sono un esperto di braccia. Esperto di braccia, ma cosa stai facendo? Carta e legna, no? Guarda, lascia stare, eh. Per fortuna che ci siamo noi donne, vero? Ma che braccia perfetta! Certo, è merito di diavolina accendi grille ecologico. Come fai a non conoscerlo? Diavolina accendi grille ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare diavolina accendi grille ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Ma che bontà! È tutto merito della cuoca? Ma no, è tutto merito di diavolina! Diavolina, tutta la magia del fuoco! Prova anche diavolina duo, l'accessorio due in uno per accendere e ravvivare la braccia di caminetti e barbecue.